Salve, sono Alessio Zitelli, ho 34 anni e sono un consulente assicurativo dal 2009. Nello specifico sono il responsabile commerciale di una delle più grandi compagnie assicuratrici a livello nazionale. Seguo la PEB gestioni immobiliari da due anni, analizzo i rischi e i bisogni non solo della società, ma anche dei suoi clienti, come nel caso delle fiduzioni acquisto casa, che è uno dei momenti più belli e importanti della crescita di una persona. Attraverso l'analisi dei bisogni tutedo il patrimonio della società per mantenerla forte e solida e il cliente garantito e soddisfatto. Un saluto a tutti voi e a presto.